ok 3 2 1 ciao ragazzi sono sempre io il boss di monopattini oggi mi è arrivato finalmente il motore centralina e tutti gli accessori per fare il progetto dello xiaomi big 84 volt 130 all'ora un animale pesa solamente 25 chili perché con tutta la batteria eccetera eccetera comunque è un missile nei commenti fatemi sapere ma adesso vi faccio vedere una cosa iscrivetevi sempre al mio canale che mi fa molto piacere tanto è gratis e non vi costa niente iscrivetevi al mondo elettrico italia di facebook che se avete bisogno sapete dove trovarmi ora vi faccio vedere il tutto questo è un video breve perché anche perché il monopattino che sto creando il mostro non ci vuole due giorni quindi con calma ok guardiamo insieme 3 2 1 c'è questa è la centralina e la centralina ragazzi c'è guardate che animale che questo è un animale questa sembra la centralina della macchina di ritorno al futuro c'è guardate che connettori e guardate quanto è grande c'è immensa e gigante praticamente centralina gigante c'è guardate quanto è grossa c'è di cosa stiamo parlando ragazzi ok 80 ampere insomma insomma è l'animale è proprio un animale ok e qua non c'è monopattino che tenga ragazzi credetemi qua non c'è monopattino che tenga perché questo qui è una centralina enorme con 24 mosfet da 100 ampere quindi ragazzi non so neanche io cosa cosa farà bene dai questo è tutto nei commenti mi fate sapere centralina e poi l'altra cosa ve la farò vedere ok bella lì ciao dal posto di monopattini e la centralina più grande di qualsiasi altro monopattino ciao